C'è stato il presidio dei cittadini alla stazione ferroviaria di Boiano per protestare contro una lunga serie di disfunzioni, compresa quella del sottopasso, che non permette l'accesso alle persone con disabilità. Ma vediamo. La stazione ferroviaria di Boiano, nonostante il restyling, è da tempo entrata nel novero delle critiche dei cittadini e degli utenti del servizio a causa di numerose disfunzioni, come quella del sottopasso tra il primo e il secondo binario, che non permette di essere usato dalle persone con disabilità. A tal riguardo, molte persone hanno voluto protestare, partecipando ad un sit-in proprio nei pressi della stazione. Beh, da un po' di tempo abbiamo un'interlocuzione con FS, soprattutto con il responsabile della comunicazione, il dottor Angelini. Stiamo chiedendo con forza che questa stazione sia a dimensione e che si abbattano le barriere architettoniche. Ci sono delle discrasie rispetto alla funzionalità vera della stazione, tipo l'ascensore che purtroppo non c'è. Chiediamo la possibilità per evitare che ci sia una luncaggine, che il treno venga posto al primo binario. Ci sono delle panchine che sono assenti, ci sono delle pensiline che avrebbero necessità di essere posti a dimora. L'ingresso della stazione stessa ha delle difficoltà per poter fare entrare ragazzi che abbiano una mobilità un po' meno garantita. C'è stato un rinnovo della stazione e di conseguenza sono state fatte delle modifiche e via dicendo. La conclusione è che oggi come oggi i treni per Roma e Campobasso che vanno al secondo binario praticamente non possiamo avere accesso perché non ci sono gli ascensori. Saranno gli ascensori se va in opera tutto come sarà, ci vorrà un anno o due anni. Ma noi non possiamo aspettare per avere accesso al secondo binario. Poi ci sono i bagni predisposti per i diversamente abili ma sono chiusi. C'è un ingresso che hanno messo in una struttura che rende difficoltoso anche l'accesso alla stazione. Mi sembra una cosa un pochetto assurda fare le cose così. Inizialmente la prima settimana c'era un servizio di alcuni dipendenti del treno che aiutavano le persone anziane a passare e andare dall'altra parte con le valigie e via dicendo. Dopo una settimana sono andati via e oggi attualmente vieni qua e non c'è nessuno. Di conseguenza non mi sembra una cosa normale e giusta.